oggi è una splendida giornata qui a Livorno tutta l'acqua che ha fatto ieri oggi invece guardate qua che bella che ore sono sono le 14.04 no le 15 scusate 15.04 andiamo andiamo a casa faccio un cazzo non aggancio non faccio nulla niente me ne vado a casa me ne vado a casa se il fercam qua mi fa passare sì ma mi fa passare mi fa passare ragazzi io vi saluto qui da Livorno è tutto oggi è di lusso dai eccolo qua 15 e 5 via a casa e domani è un altro giorno eh questo che fa dai stai fermo qua dai fercam vado via io vado via io e me ne vado oh pazzo agostino oh pazzo sarà il pazzo oh pazzo ciao ragazzi fenomenale questa questa camera modalità azione grand'angolo e uno per bellissimo ciao a tutti ragazzi sto facendo dei videini eh videini più o meno di merda vediamo ciao 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 Grazie a tutti.